La linea Ma pensa a te, forse quel profumo intenso di mandarino o il mare in mezzo che ho vicino a me. Ma tu chi sei? Dimmi chi sei? Sei entrato nei pensieri miei, tra le pagine nascoste dai. Ma tu chi sei? Lo scoprirò. Se ci sarai, io ci sarò. Ma guardate che asta che mi hanno fatto, guarda. Eh? Asta la talizia. Asta la vista. La righi. Adesso sei vicino, accanto a me. Mi sento respirare ma io penso a te. Non c'è più il profumo intenso di mandarino o il mare in mezzo che ho vicino a me. Ma tu chi sei? Dimmi chi sei? Sei entrato nei pensieri miei, tra le pagine nascoste dai. Ma tu chi sei? Lo scoprirò. Se ci sarai, se ci sarai, io ci sarò. Andarino. Andarino. Sei entrato nei pensieri miei, tra le pagine nascoste dai. Se ci sarai, io ci sarai, se ci sarai, io ci sarai. Grazie. 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 Grazie.